San Piero a Grado è famosa per la possente basilica in stile romano. La parte nuova di San Piero a Grado rimane vicina all'autostrada. Dietro la basilica si trovano antichi edifici rurali che sono occupati dall'Università di Pisa. Dell'antico campanile distrutto durante la guerra rimane solo la base. Segnaliamo il bellissimo presepe vivente che viene rappresentato in costume durante le veglie natalizie.